Nel PNRR uno degli obiettivi è proprio il rinnovamento e l'adeguamento normativo delle nostre scuole che è fondamentale anche per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza. Il patrimonio come sapete è vasto, noi naturalmente partiamo dalle situazioni più disastrate secondo le segnalazioni che gli enti locali ci fanno, il comune in primis nell'istituto comprensivo delle scuole primarie e poi la provincia, la città metropolitana per quanto riguarda le scuole superiori. Pensiamo che sia anche importante potenziare le attrezzature sportive e laboratori che fanno parte di un progetto didattico funzionale al benessere degli studenti e alla loro crescita. La situazione è migliorata, le supplenze ovviamente all'inizio anno ci sono ancora ma sono molti gli insegnanti di ruolo che hanno iniziato questo anno scolastico.